Abbiate coraggio e speranza, non stancatevi mai. La prima tappa del nuovo vescovo di Caserta, Monsignor Giovanni Dalise, che ieri ha fatto il suo ingresso in diocesi, è stata all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano per portare un messaggio di pace e infondere fiducia ai più deboli, negli ammalati, ma soprattutto nei parenti di chi soffre, che quotidianamente vivono un calvario e hanno bisogno di aggrapparsi alla fede. Vengo da sacerdote, ha spiegato. Come prima cosa ci tenevo a venire qui perché sento l'esigenza di stare accanto agli ammalati e ci tornerò spesso. Al suo fianco il vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, che per otto mesi ha colmato il vuoto lasciato dalla scomparsa di Monsignor Pietro Farina, in qualità di amministratore apostolico, il vicario Don Antonio Pasquariello e il cancelliere della curia Don Pietro De Felice. Il nuovo pastore ha subito dimostrato stima e affetto ai medici che lo hanno accolto, stringendosi con loro in preghiera. Prima nel reparto di medicina d'urgenza, poi in quello di rianimazione. Qui si valuta il valore della vita, ha sottolineato Monsignor Dalise. Con l'intervento dei medici si salvano le vite, ma a volte le cure non bastano. Quando si è in questi luoghi si apprezza di più il valore della vita. Le persone che avete in cura sono l'immagine che si ripete della croce. Non dimenticate che Dio ci sta comunicando qualcosa in questo modo. Tra la commozione generale, il nuovo vescovo ha lasciato il nosocomio e si è diretto in Piazza Dante, dove ad attenderlo c'era una folla impaziente e carica d'affetto. Prima di incontrare le autorità, Don Giannino, come continuano a chiamarlo i fedeli e i sacerdoti che lo hanno seguito per tanti anni, non si è sottratto ai saluti alle strette di mano dei cittadini. Dopo un breve discorso e il saluto col sindaco Pio Del Gaudio, che gli ha consegnato le chiavi della città e col presidente della provincia Domenico Zinzi, Monsignor Dalise è sceso dal palco e si è unito al corteo che attraversando Via Mazzini è giunto al Duomo, dove alle 18.10 ha fatto il suo ingresso in cattedrale per celebrare la sua prima messa da vescovo di Caserta. Tanti i temi toccati durante l'omelia, innanzitutto un saluto e un ringraziamento, poi la promessa di farsi carico dei problemi e delle necessità di Caserta per condividere tutto con i cittadini. E non poteva mancare un pensiero ai tanti fedeli che hanno preso parte alla celebrazione all'esterno del Duomo, grazie ai due maxischermi allestiti e ai mille posti a sedere posizionati. La mia benedizione arriva anche a voi. Alla sua presa di possesso, oltre a Monsignor Spinillo, ai vescovi della Campania e ai sacerdoti della diocesi di Caserta, ha partecipato anche il cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe. Al termine della funzione, Monsignor Dalise è tornato tra la folla per l'ultimo saluto della giornata, il primo di una nuova avventura insieme.